Ben trovati dalla redazione di Cosmopolis News. Arrestato dalla polizia di Stato, un 44enne tarantino che custodiva all'interno del suo appartamento situato a lama droga, armi e relative munizioni. Le indagini dei falchi della squadra mobile avevano fatto convergere le attenzioni sull'uomo. Dopo averlo rintracciato, i poliziotti hanno iniziato un'accurata perquisizione della casa. Solo qualche minuto dopo hanno ritrovato nella camera da letto, ben nascosti tra i vestiti dell'armadio, due pistole, due revolver e relative munizioni. Il prosieguo del controllo ha permesso di ritrovare in cucina un bilancino di precisione perfettamente funzionante e 20 grammi di hashish diviso in due piccoli pezzetti. L'uomo è stato pertanto arrestato perché presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi clandestine. Coronavirus. Il bollettino diramato dalla regione il 13 febbraio segnala in Puglia 94 nuovi casi di positività. Nessun decesso registrato. Nelle ultime 24 ore sul territorio pugliese sono stati processati 1.866 test con un tasso di positività del 5%. A Taranto e provincia segnalate 7 nuove positività. Al momento nella regione sono 8.480 le persone positive al covid, di cui 143 ricoverate in area non critica e 6 in terapia intensiva. Partito strada per strada il piano da 3 milioni e mezzo del comune di Taranto per la riqualificazione di strade e marciapiedi della città. Questa mattina l'assessore ai lavori pubblici del comune di Taranto, Mattia Giorno, ha effettuato un sopralluogo in via Argentina. Tra i tanti cantieri che sono partiti in queste settimane stamattina ci troviamo a via Argentina, a breve andremo a fare un salto anche a via Dario Lupo dove abbiamo iniziato il cantiere di riqualificazione delle strade. È possibile vedere, le strade sono già scarificate, nei prossimi giorni inizieremo a stendere il binder e poi il tappetino dell'asfalto. Prendiamo anche l'impegno per il 2023 di avviare il cantiere di sistemazione dei marciapiedi e anche della strada su via Sorcinelli e quindi completare la riqualificazione delle strade dissestate in questa zona. Considerato che già lo scorso anno abbiamo asfaltato Corso Italia. E proprio all'angolo con via Argentina, nelle scorse settimane abbiamo attivato un intervento di abbattimento delle barriere architettoniche sistemando gli scivoli sui marciapiedi in tutto l'angolo. Continueremo a monitorare lo stato dell'arte dei lavori, torneremo a vedere a lavori conclusi la qualità dell'asfalto sia qui sia su Dario Lupo e, ripeto, ci impegneremo come amministrazione comunale Melucci, col consigliere Fiusco e con tutti gli altri consiglieri comunali a lavorare perché venga avviato il cantiere di riqualificazione di strade marciapiedi anche su via Sorcinelli. Si è conclusa nella giornata di domenica 12 febbraio la quarta edizione della mostra Faces Passionis, i Volti della Passione, organizzata dall'Arci Confraternita del Carmine di Taranto dall'8 al 12 febbraio. Tantissimi visitatori provenienti da tutta la provincia che hanno potuto ammirare le 14 statue portate in processione all'interno della Settimana Santa di alcuni comuni di Calabria, Sicilia, Basilicata e Puglia. L'evento si è concluso con l'esibizione del complesso bandistico di noci Santa Cecilia che ha eseguito le musiche tradizionali che caratterizzano i riti del comune barese. Si è svolto nella mattinata di lunedì 13 febbraio il Carnevale Riciclone di Taranto, un'idea dell'associazione Tutto Intorno a Noi presieduta da Michele Elmo e realizzata col sostegno del comune di Taranto. Presenti l'assessore all'ambiente Laura Di Santo e la consigliera comunale Stefania Fornaro. I bambini della scuola Galileo Galilei Plesso Consiglio di Città Vecchia, vestiti con abiti interamente realizzati con materiale riciclato, hanno sfilato da Piazza Duomo al cantiere Maggese. Qui tra musica, animazione e mascotte, il presidente di Chima Ambiente, Giampiero Mancarelli, ha spiegato come va fatta correttamente la raccolta differenziata. Sì, una bella sinergia, associazionismo, scuola, istituto Galilei qui in Città Vecchia. Ecco, i vestiti presi da riciclo e quindi riciclare e quindi non contribuire negativamente all'ambiente. E questa è una bella scelta grazie al contributo dell'assessorato all'ambiente e di Chima Ambiente. Noi siamo qui per suggellare, ecco, tanti genitori, i bambini che si divertono, ma anche descrivere le best practice, come riciclare correttamente anche qui. Bene, Taranto sempre più diventa riferimento. Ecco, noi siamo contenti grazie a questa amministrazione e a questa bella sinergia. Assolutamente sì. Oggi un ringraziamento doveroso va all'associazione Tutti Intorno a Noi di Michele Elmo che ha voluto fortemente questo evento in questa splendida cornice di Città Vecchia nei Cantieri Maggese. Un evento voluto e con la collaborazione della Direzione Ambiente e del mio assessorato perché tutto è l'insegna della sostenibilità. Carnevale Riciclone è a sostegno proprio della sostenibilità, quindi i bambini sfileranno con questi abiti realizzati. Ringrazio la direttrice Iosso della Galileo Galilei che ha abbracciato questa iniziativa. È importante far capire quanto si deve tenere all'ambiente e alla sua sostenibilità. Quindi noi siamo felici come amministrazione di intervenire e siamo felici che questi bambini già dalle scuole inizino a comprendere cosa significa sostenibilità e cosa significa anche rapportarlo a questi eventi come il Carnevale che è una festa di gioia per tutti i bambini. Questa è una giornata organizzata dall'associazione di Michele Elmo che voleva fare qualcosa qui in Città Vecchia quindi io subito ho sposato l'idea e ho detto organizziamo qualcosa con i ragazzi, con la scuola Galileo Galilei e cerchiamo di fare qualcosa che sia sia educativo ma anche diciamo goliardico, divertente. Quindi a fine giornata questi ragazzi oggi stanno sfilando con degli abiti utilizzati con materiale riciclato. Tutto il materiale è stato donato dal comune, dall'AMIUM, da Chimambiente e alla fine con il presidente dell'AMIUM, con Gian Piero Manchiarelli spiegheremo come differenziare gli abiti che i bambini oggi indossano. È una bella giornata, il sole oggi ci accompagna quindi buon divertimento a tutti. Non sono riuscite a superarsi Taranto e Juve Stabia nel corso della gara valevole per la 27esima giornata di Serie C del Girone C giocatasi ieri allo stadio Romeo Menti di Castellammare. Alle due compagini è mancato solo il gol in quello che è stato un match frizzante e disputato su ritmi elevati in cui le occasioni da rete non sono mancate da una parte e dall'altra. Gara molto equilibrata soprattutto nella prima frazione, a fronte di un secondo tempo quasi completamente di marca giallo-blu con i locali che, compreso un palo di Pandolfi al minuto 86, hanno sfiorato il vantaggio in almeno tre niti di occasioni con D'Agostino e Silipo che soprattutto allo scadere ha messo in vetrine i riflessi del numero uno rosso-blu Vannucchi bravo nell'occasione a salvare il risultato con un grande intervento in tuffo su conclusione a botta sicura dell'ex calciatore del Palermo. Un punto per parte quindi che accontenta maggiormente gli Ionici che da martedì inizieranno a lavorare per l'importante incontro di domenica prossima allo Iacovone contro l'audace Cerignola. Finisce 1-1 il derby del Tursi tra il Martina ed il Barletta davanti a una cornice di pubblico di categoria superiore i biancazzurri mettono un altro mattoncino sulla strada della salvezza mentre i barlettani si mangiano le mani per l'occasione non sfruttata. Pizzulli rinuncia ad Ancora in avvio mentre il Barletta si affida alle sortite di Lattanzio e lo Iodice. Succede tutto nel primo tempo biancazzurri amante all'undicesimo della prima frazione con un destro preciso di Mangialardi al ventesimo il pari dei biancorossi grazie ad un colpo di testa di Cristallo che beffa Figliola. Nel secondo tempo un'occasione per parte ma il punteggio non cambia. Nulla da fare per la gioiella Prisma Taranto che torna a mani vuote del Palapanini dove viene sconfitta per 3-1 dalla valsa group Modena di Andrea Gianni. Non bastano ai rosso-blui i 25 punti di Ibrahim Lawani ancora una volta sugli scuri della formazione ionica per evitare il nuovo KO il quindicesimo in campionato. I rosso-blui rimangono ultimi in classifica per i punti con Siena a quota 14. I toscani però non sono scesi in campo dopo l'invio del match con la Lube Civitanova a causa degli ultimi eventi sismici. Taranto accumula un'altra lunghezza di distanza da Padova sconfitta nel derby Veneto per 3-2 da Verona. La gioiella resiste nel primo set fino al 17-15 poi alcuni errori al servizio spianano la strada degli emiliani che chiudono il parziale per 25-22. Secondo set invece totalmente comandato dai canarini con Taranto che accusa lo svantaggio e cede per 25-16. La reazione giunge nel terzo parziale partono meglio gli emiliani poi i rosso-blui riacciuffano la parità con Lawani sul 6-6. Le est di Falaschi porta Taranto sull'11-14 con i rosso-blui che riescono a gestire il vantaggio e conquistano il terzo parziale per 20-25. Taranto prova a partire sull'acceleratore con Lawani anche nel quarto parziale poi è brava Modena a recuperare e a toccare il più 6 con un attacco alto di Lawani. I rosso-blui rientrano fino al meno 4 ma non basta. L'errore al servizio dell'Etti consente alla squadra di Gianni di chiudere il set 25-18 e conquistare i tre punti mentre Taranto torna a casa ancora una volta a mani vuote. Sabato prossimo alle 18 al Palamazzola lo scontro salvezza contro Siena. Vincere può essere l'unico spiraglio per mantenere la Superlega. Il CJ Baschettaranto carezza il sogno di calare il poker di successi consecutivi nel 2023 ma viene battuto a domicilio dalla Juve Caserta. Al Tour Sport la squadra di Coccio Olive cede per 78-89 contro la compagine dell'ex Biagio Sergio. Subendo un parziale determinante di 17-32 nell'ultimo periodo che decide l'incontro e interrompe la striscia di risultati utili consecutivi della formazione ionica. Dopo Ruvo di Puglia e Sant'Antimo Taranto ha sfiorato la vittoria nello scontro diretto. Gli ospiti Maedomi e sempre in partita sono stati in grado di rimontare una situazione negativa chiudendo il match con ben 11 punti di vantaggio. Non sono bastati il rosso-blu i 24 punti di Diego Corral top scorrere della serata per aggiudicarsi lo scontro diretto. Caserta ha avuto il merito di giocarsi tutte le carte a sua disposizione sfruttando anche una panchina più lunga rispetto a quella ionica. Nel quarto periodo un paio di triple di Meia e Mastroiani hanno cambiato l'inerzia della partita sancendo così la sconfitta per gli ionici che però non escono assolutamente ridimensionati dal Toursport ma ancora più inconsci delle proprie potenzialità.